Allora, 21 dicembre, temperatura invernale, 11 gradi, proviamo come noi sappiamo che i clienti fanno fatica, sono pigri quando ci sono basse temperature, vediamo come si comporta il nostro beneficio, messo in produzione quel numero dell'otto, vediamo, ho sbagliato, si fa sempre dal basso verso l'alto, ho fatto l'errore di Simone Amato, a stare con lo zoppo imparò a zuppicare, lo sapevo che sarebbe successo prima o poi e così è accaduto, lasciamo agire 30 secondi tanto non macchia, con questa temperatura hai voglia, quindi quando siamo in inverno lasciamo agire un po' di più, possiamo fare tutta la macchina tranquillamente senza problemi, puro naturalmente, e adesso passiamo alla direzione, al risciacquo scusate. Bisogna ancora C'è un fuoco raffinoso Un verificio a capovolando, a ranta, a ranta, a ranta. No, sono rimasti tardi.